Expo 2015, è un bello obiettivo. Intanto sono contento, felice che sia stato attribuito alla mia città. Devo dire che io ho sempre lavorato dicendo che la cucina prima è salute, se non è salute non è neanche cucina. Se l'obiettivo dell'Expo è quello di rappresentare la cucina all'insegna della salute, io credo di essere sulla buona strada. Adesso presenterò un piatto così, proprio in anteprima, dove la materia, la rivincita della forma, ovvero della materia, sia la semplicità. Sei pronto? Vieni qua, piazzati qua che facciamo il piatto. Ecco, questo è un po' quello che io voglio portare come simbolo all'Expo, questo mio concetto di salute. Io ho fatto realizzare questo piatto col quadrante nero, in modo da poter esporre sopra un piatto nella sua semplicità. L'intento è questo, di far sì che le persone possano apprezzare un piatto nella sua freschezza, nella sua semplicità. Poi noi accosteremo a fianco un riso, semplicissimo, adesso siamo nella stagione dei piselli, allora piselli, carote e seda. A me piacerebbe che fosse gustato così, gustando proprio e masticando e sentendo il sapore della freschezza e della qualità del prodotto. Questo è quello che io penso di portare come messaggio all'Expo del 2015. A me piacerebbe che fosse gustato acc Armsat имa Ascati Grazie a tutti.